Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della nostra radio per una puntata della trasmissione mariana, di Catechesi Mariana de Maria Nun Consatis. La volta scorsa abbiamo terminato la trattazione del dogma della virginità perpetua di Maria che è il primo dei quattro dogmi mariani, oggi apriamo un nuovo capitolo con la maternità divina di Maria che in ordine cronologico è il secondo che è apparso nel panorama dogmatico magisteriale della Chiesa. Questo dogma come vedremo è stato formalmente definito da un concilio ecumenico, questo come gli altri due, quindi abbiamo alcuni dogmi mariani che sono stati oggetto di definizione da parte di concilio ecumenico, quindi definizione formale e come sempre cercheremo di individuare innanzitutto le radrici scritturistiche e poi anche l'occasione storica contingente in cui si è giunti alla definizione del dogma, voi dovete sempre sapere che quando viene indetto e convocato un concilio ecumenico, specialmente poi quando all'interno di esso avvengono delle definizioni dogmatiche, l'occasione prossima, almeno nel corso della storia della Chiesa, l'occasione contingente che lo provoca è il diffondersi di qualche dottrina erronea o peggio, vere e proprie eresie e vedremo che anche nel caso della Maternità Divina di Maria l'occasione contingente è stata esattamente questa, ossia l'eresia del cosiddetto nestorianesimo. A titolo di introduzione bisogna subito dire che il titolo di Madre di Dio ha rilevanza, come del resto molti dogmi unariani, non solo da un punto di vista mariologico, ma anche da un punto di vista ecclesiologico, o meglio, prima ancora che ecclesiologico, cristologico. La retta comprensione della vera Maternità Divina della Chiesa, come definita dalla dottrina cattolica, consente anche la retta comprensione del mistero dell'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione che rimane un mistero, ma che però deve assolutamente essere ben compreso per tutta quanto una serie fondamentale di implicazioni. Allora vorrei fare una piccola parentesi per dire questo, diciamo da sacerdote, insomma, che per volontà del vescovo, che c'era quando completai gli studi, ha studiato la teologia aromatica. Nell'ambito della dottrina cattolica, della teologia cattolica, del depositum fidei, delle verità di fede, esiste una mutua interconnessione, cioè uno sbaglio dottrinale, io anche pensavo a tante cose, quando ero più giovane, anche un pochino più sciocco, pensavo che le questioni dottrinari non fossero tanto importanti, perché dico, vabbè, magari ci sono tutte quante teorie, sono tutte tante idee, insomma, se la Madonna, perdonatemi se uso questa, è o non è la madre di Dio, ma che c'è fa? Sappiamo che è la madre di Gesù e quindi, come dire, mette in orizzontarsi un pochino, cioè, perché sembrerebbero, d'accordo, cose teoriche, cose astratte, cose che hanno poco a che fare, ma così invece non è, d'accordo? Perché la maternità divina di Maria, come vedremo, cercherò di essere il più chiaro possibile, perché si tratta di concetti un pochino delicati, un po' elevati anche, condiziona la retta comprensione dell'incarnazione, ma la retta comprensione dell'incarnazione condiziona quella che si chiama la soteriologia, cioè, soteriologia significa il discorso sulla salvezza, cioè, noi siamo stati veramente salvati dal Signore oppure no, perché questo avvenisse, l'incarnazione deve avvenire esattamente in un certo modo, ma non solo, condiziona anche l'antropologia e la morale, perché l'essere umano, secondo la rivelazione, è fatto in un certo modo, perché si dia una vera incarnazione, il verbo deve unirsi ipostaticamente ad una vera natura umana, guarda la nostra, non solo, perché il verbo incarnato, oltre che strumento dell'incarnazione, sia anche, come vuole essere, esempio e modello, perché l'imitazione di Cristo è, come dire, la piattaforma fondamentale di ogni cammino verso la santità. Gesù ha detto imparate da me che sono mite e tumile di cuore, imparate. Quando ho lavato i piedi degli apostoli ho detto, guardate, io vi ho dato l'esempio, perché quello che ho fatto io lo facciate anche voi. D'accordo? San Pietro scrive nella sua epistola, la prima, se non ricordo male, Cristo fatì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Allora, se Gesù Cristo non è un uomo veramente come me, ma che te seguo? D'accordo? Se uno pensa che l'incarnazione sia una sorta, capito, di Dio che cammina in terra, ma con un'umanità insomma che è evanescente, oppure, come diceva un eretico, no? Apollinare di Laodicea, vi confesso, insomma, che quando ero molto giovane, nella mia ignoranza etimologica, io pensavo qualcosa di simile a questo. Cioè, Apollinare di Laodicea diceva che chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo c'ha il corpo che è come il mio e al posto dell'anima, cioè delle mie facoltà spirituali, c'ha la natura divina. Capito? Quindi fondamentalmente ciò che c'ha di uguale a me Gesù Cristo è solo il corpo, ma non è così, d'accordo? Sarebbe un disastro universale, d'accordo? Quello non è essere diventato uomo, ma aver rivestito di un corpo umano il verbo, ma quello non è un uomo, capito? Cioè, io non ho niente a che fare con un essere di questo genere, capisci? Perché cioè, tra la natura divina e la natura umana c'è una distanza inconmensurabile, d'accordo? Quindi queste premesse, per comprendere anche, ci sarà qualche passaggio forse delicato, cioè le nostre amatissime sore mi hanno chiesto di fare un ciclo di catechesi sui dogmi mariani. È chiaro che questi dogmi io cerco sempre di dargli un taglio, come dire, catechetico-esistenziale, no? Perché è fondamentale, però anche quando si insiste sulla, come dire, correttezza dottrinale, non è un problema teorico, d'accordo? Uno vuole fare i cavilli, o vuole fare, o vuole quisquiliare, insomma, su qualche cosa che tanto chi se ne importa, insomma, no? Tanto la vita poi è un'altra cosa. Non è manco per niente o un'altra cosa. Io ricordo uno dei più grandi, uno dei più bravi professori che ci ho avuto quando studiavo la Gregoriana, non so se fare il nome, perché era un professore di filosofia, però era veramente un genio. Nel senso, questa volta che ho studiato la filosofia ho studiato la matematica, la logica, e io rimasi proprio folgorato, perché praticamente io la filosofia l'avevo studiata, dicevo classico, la storia della filosofia, noi insegniamo il percorso della storia della filosofia moderna e contemporanea. Ma poi, vedete, ci faceva vedere come il pensiero del XX secolo, non soltanto che è figlio della rivoluzione cartesiana, ma ci faceva vedere le scoperte matematiche e fisiche di Newton, come avevano condizionato il pensiero filosofico, e viceversa, e come tutto questo, ma te lo faceva proprio vedere con gli occhi, aveva prodotto il pensiero nostro. Cioè, cose che la gente, l'uomo della strada non lo sa, ma l'uomo della strada ragiona così, perché è figlio del nostro tempo, cioè queste cose, come dire, sono governate ad alti livelli, ma l'alto livello produce la cultura, e la cultura poi influisce sulla vita dell'uomo della strada, come si dice, quindi della persona che non ha tutte le altre queste condizioni, che assorbe, assorbe e assimile tutte le altre persone, senza comprenderne i fondamenti remoti e teoretici che sono allucinanti. Io rimasi veramente folgorato, e dico, mamma mia, che disastro, che è successo? D'accordo? Ecco, quindi attenzione a non troppo disprezzare la teoria, perché la teoria sta sempre alla base della prassi, sia che tu la conosci, sia che tu non la conosci, d'accordo? L'antichissimo adagio filosofico che è agere seguiturese, si dice così, no? Quindi l'agire è conseguenza dell'essere, quindi vuol dire da una certa posizione teorica dottrinale, conseguono delle conseguenze sempre pratiche e morali, sempre, non si sfugge a questo. Ecco perché è importante. Allora, quindi abbiamo visto la rilevanza cristologica, anzitutto, della dogma della maternità divina, l'abbiamo già accennato, rilevanza che quindi è anche indirettamente antropologica, vedremo che è anche indirettamente ecclesiologica, perché Maria è madre della Chiesa, perché è madre di Dio, d'accordo? Non potremmo chiamare madre della Chiesa, come si ha ricordato Papa Francesco, istituendo un amore obbligatorio quest'anno, la Madonna, se non fosse vera madre di Dio. Questo ce lo scordiamo completamente, d'accordo? Lo vedremo. Ora, sapete che purtroppo tra i vari vomitamenti di fango, insomma, che sono stati fatti purtroppo nel secolo scorso da qualche sprovveduto, insomma, o, peggio, bisognerebbe dargli qualche altro epiteto, però lo lasciamo stare, insomma, qualcuno cominciava a dire, senza sapere, gli studi, le tante cose, no? C'erano alcune idee pagane, tipo Iside per esempio, che dal paganesimo venivano interpretate come generatrici di dei, d'accordo? Delle divinità. Ecco, e quindi, qua che ovviamente teologo, soprattutto non cattolico, di aria marcatamente razionalista e positivista, ha detto, quindi, capiamo, no? Le obiezioni generalmente d'ordine mariani, ordinariamente venivano da ambienti non cattolici, quindi che sono sempre stati un pochino ostili nei confronti della Beata Vergine Maria, come è noto. No, questi se la sono inventati cristiani, quindi hanno copiato il mito di Iside e l'hanno traslato all'immagine di Maria, che è semplicemente una brava donna ebrea, ma è semplicemente la madre di Gesù. Vedremo quanto questo non sia vero e vedremo anche, come dire, che l'obiezione teologica, dice, eh, la madre di Dio, no? La generatrice della divinità, ma la Madonna non è affatto la generatrice della divinità. Questo è quello che pensava anche Nestorio, purtroppo Vescovo di Costantinopoli, dalla cui eresia nacque proprio la reazione ecclesiale che portò al concilio di Ecclesio del 431 e che definì i corretti termini della comprensione del dogma della maternità divina. La Madonna non genera affatto Dio, Dio non può essere generato da nessuno, d'accordo? Ma la Madonna, come vedremo, dà la natura umana, chiaramente per disposizione divina, come oggetto, diciamo così, vero, da incorporare, usiamo questo termine per ora non molto tecnico, nella persona divina del verbo, attraverso il fenomeno del tutto per cui era dell'incarnazione. D'accordo? Quindi la Madonna non genera la divinità, ma è strumento attivo e cooverante all'assunzione dell'umanità da parte del verbo di Dio. Ora, il termine madre di Dio in greco si dice teotokos, la teotokos, mentre in latino si dice dei parà, quindi quando sentiamo questi termini, la vergine dei parà, si no, significa la vergine dei parà, ecco. Allora, teos, va bene, in greco significa Dio, lo sanno tutti quanti, tocos deriva dal verbo titto, che significa generare, partorire, quindi la generatrice di Dio, ossia la madre di Dio. In latino lo stesso, il suffisso tokos, quindi non teotokos, ma dei parà, quindi deus significa dei Dio allo stesso modo, il suffisso para significa appunto, para deriva anche dal nostro italiano, non parto, genitrice di Dio. Quindi questi sono i termini anche un po' di no, diciamo, terminologici della questione. Andiamo a vedere, ci sono tantissimi i passi della Sacra Strittura che attribuiscono ovviamente alla Madonna il termine madre. Ora, madre Maria Santissima viene chiamata quasi sempre in relazione a Gesù, quindi viene detta la madre di Gesù, c'era 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 la madre di Gesù, no? Però abbiamo dei passi in cui, per esempio, ci sta Giovanni 2028, lo trovo subito, lo leggiamo insieme perché è uno dei passi importanti. Allora, Gesù non è semplicemente Gesù. Essere madre di Gesù significa essere madre del Signore perché Gesù non è semplicemente un uomo come tutti. d'accordo? È vero che formalmente i Vangeli attribuiscono sempre la maternità della Madonna a Gesù, c'era la madre di Gesù, no? Andavano e c'era la madre di Gesù. Sotto la croce, Giovanni 19, no? Sotto la croce stavano, 19-25, presto che Gesù. Sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleopas e Maria di Magdala, quindi viene sempre nominato formalmente Gesù, così come era non sericana. Nel Vangelo di Luca, soprattutto nei brani che parlano dell'Annunciazione, si legge, però qualche altra cosa. Santa Elisabetta dice a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Quindi non semplicemente la madre di Gesù, ma Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo e anche per quel fenomeno del tutto peculiare che avvertite dentro il suo grembo, riconosce esplicitamente in Maria la madre del mio Signore. Cosa significa il termine Signore? Signore in latino è, in greco è Kyrios, in latino è Dominus, ma in ebraico come si dice Kyrios in ebraico? Kyrios in ebraico lo possiamo dire soltanto noi perché gli ebrei non potrebbero dirlo, perché Kyrios in ebraico si dice Yahweh. Yahweh è, come sappiamo, il nome di Dio. Esodo 3, 13-15. Quando Dio si rivela a Mosè, Mosè gli dice senti un po', ma come ti chiami? Devo andare a riferire che tu mi mandi, ma questi mi diranno come si chiami? cosa risponde? Io, io sono colui che sono. Cioè il mio nome è Yahweh, perché Yahweh significa io in ebraico, io sono colui che sono. E cosa significa questo? Sapete che io sono colui che sono è il nome proprio di Dio perché nessuno potrebbe dire di se stesso la stessa cosa. Questo lo fa Dio, lo faccio sempre capire con degli esempi molto molto semplici, no? Cioè io sono colui che sono vuol dire che ho in me anzitutto il principio dell'essere. Cosa che non è vera perché io sono nato 47 anni fa da due esseri umani ben definiti e ben definibili. Oggi è Mater certa est, ma oggi è anche Pater certus est, perché basta fare un test del DNA, questo è sicuro, questo qui d'accordo? Anche quando uno nascesse attraverso forme sciagurate, insomma, scientificamente possibili in età contemporanea, non ha in se stesso il principio del proprio essere. Quindi questo non lo può dire nessuno di sé. Ma non solo. A me se non concesso che il principio del mio essere adesso fossi io, che così non è, è certamente che ero il 1968. Non soltanto non potevo dire io sono colui che sono, ma non potevo neanche dire io sono perché non c'ero. E questo vale per tutti gli esseri umani. Cioè il nome di Dio indica la sua eternità e la sua trascendenza. Quindi dire di Gesù, dire della Madonna che debbo che la madre del mio Signore venga a me, vuol dire riconoscere in Gesù il nome di Dio. Cioè la trascendenza divina. Cioè Yahweh. Poi nell'Antico Testamento non si sapeva che Yahweh è uno della natura e attivano le persone. Ma nel nuovo sì. Quindi dire la madre del mio Signore è già dire qualcosa di grosso. Ecco. Poi, per quanto riguarda sempre le fonti scritturistiche, dobbiamo in questa sede passare in rassegna i cosiddetti i brani anti-mariani o anti-mariologici che si trovano nei Vangeli sinottici. Matteo 12.46.50, Marco 3.31.35 e Luca 8.19.21. Non ne andrò a leggere. La sostanza di questo dei Vangeli che rappresentano delle piccole varianti terminologici è molto noto. Tua madre e i tuoi fratelli qui fuori ti cercano. Adesso il discorso dei fratelli l'abbiamo già visto questo nell'energia e per questo l'abbiamo già chiarito. Ma c'è comunque la risposta che Gesù diede. Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, coloro che fanno la volontà di Dio. Cioè le versioni sono differenti ma il significato resta sempre lo stesso. Quindi anche qui sempre in ambito prevalentemente non cattolico i critici nei confronti dell'esaltazione del titolo di materia di Dio dicono ma Gesù stesso guarda che dice cioè non conta la sua madre ma conta chi fa la volontà di Dio. Quindi la sembrerebbe diminuire. Sono tanti gli episodi del Vangelo dove Gesù sembra apparentemente diminuire anche la nozze di canna. Che ho da fare con te donna? Non ho ancora giunto la mia madre. È chiaro che bisogna poi saper fare la lettura esegetica. Questi sono tanti brani che apparentemente sono una diminuzione di Maria ma in realtà l'esaltazione più grande di questa non poteva essere fatta. Già i primi grandi commentatori che cosa che cosa fanno comprendere l'essenza di questi cosiddetti brani antimariologici? Ecco noi abbiamo e il dogma della maternità divina di Maria difende la maternità biologica della Madonna. Nel senso che la Madonna è vera madre di Dio perché l'ha partorito d'accordo? Perché l'ha concepito e perché l'ha partorito e perché è stato strumento attivo come vedremo è cooperante certamente per disposizione divina non perché Dio ne avesse assoluto bisogno ma comunque lo è stato per divina volontà. Ecco però il discorso di questo qui perché la Madonna è stata scelta per essere la madre di Dio? Perché quello che Gesù afferma in questi cosiddetti brani antimariani o antimariologici cioè chi ascolta la volontà della parola di Dio la mette in pratica, chi fa la volontà di Dio, chi obbedisce, chi la custodisce è madre. Significa guarda che questa è mia madre perché nessuno prima più tanto quanto lei ha fatto quello che io sto dicendo e questo gli ha come dire consentito non soltanto di generarmi spiritualmente perché il senso del discorso di Gesù è che se noi facciamo la volontà di Dio è come se generassimo un altro Gesù perché Gesù è stato nient'altro che fare sempre in tutta la volontà del Padre Gesù è l'ubbidiente al Padre fino alla morte di Grossi. Quindi chiunque fa quello che lui ha fatto lo rende presente, è come se lo partorisse e lo generasse, questo è il significato ovviamente spirituale di questo episodio. La Madonna lo ha generato anche nel corpo perché ha come dire avuto questo privilegio non perché lo meritasse in senso stretto perché i privilegi non si possono meritare in senso stretto ma certamente se proprio Dio doveva scegliere qualche creatura per farsi uomo e l'ha voluto fare non poteva scegliere altri che la Madonna perché nessuno, ripeto, come prima e più di lei ha fatto la volontà di Dio, ha ascoltato la parola, l'ha custodita nel cuore e l'ha messa in pratica. Quindi Sant'Agostino diceva arditamente e diceva il vero che più importante ancora della maternità biologica di Maria che va comunque affermata, va sottolineata la maternità spirituale anche di Maria nei confronti dello stesso Gesù, nel senso che la famosa omelia si trova in una delle feste mariane del previario, forse quella del santo nome di Maria, comunque c'è questa famosa omelia di Sant'Agostino che dice prima che concepirono nel corpo, Maria l'ha concepito nel cuore mediante la fede, non la fede, la fede con la F maiuscola insomma, no? La fede che sposta le montagne, quella fede, dicevo non molto tempo prima di questa catechesima della meditazione, che quando la fede è viva e profonda, la fede è viva e profonda, porta necessariamente all'obbedienza a Dio, a meno che non si tratti di una personalità psicopatica, no? Perché se uno ci crede che Dio esiste e che vuole soltanto il mio bene, che mi dice una cosa solo per il mio bene, è chiaro che io la farò, non soltanto che la farò volentieri, ma con gioia e senza nessuna fatica. Quindi attenzione che questo va sempre ricordato, va affermata la maternità biologica di Maria e il dogma della maternità divina di Maria afferma questo, ma prima è più che questo e per la gloria di Maria, stavolta, in persona, va affermata la sua maternità spirituale. Questo è anche, come dire, un modo che aiuta previamente tutti noi, cioè io rendo presente, faccio presente Gesù, e qui perdonatemi se, non se faccio tante preghiere, non se vado a Messa, non se sono, capite, non che non bisogna fare le preghiere ad andare a Messa, ma se la mia vita è uno specchio della vita di Gesù, faccio la volontà di Dio, la sua parola ascolta e la metto in pratica. Io, in tempi recenti, in tante circostanze, mi sono trovato con dei testi biblici che mi suggerivano, ecco, di parlare, come sapete che usare un pochino di sana e santa ironia, a volte ci aiuta anche, come dire, a dolcemente riflettere su qualche cosa che si possiamo portare dietro, no? Bisogna fare attenzione ai devoti atei di questi tempi, capite? Cioè le persone quindi che fanno consistere tutta quanta il loro amore a Gesù, soltanto in una serie di pratiche esteriori, anche sacramentali o di preghiere, preghiere vocali, processioni e cose di questo genere, però la vita è lontana, luce dalla volontà di Gesù, d'accordo? O anche le persone, questo è un problema molto molto antico, che frequentano e che si rifanno, come dire, una propria vita morale a propria immagine e somiglianza. D'accordo? E con questa vita morale rifatta, propria immagine e somiglianza, poi pretendono anche, come dire, pieno accostamento ai sacramenti e tante altre cose, no? Quindi vedete che già ci sono molte, molte cose da prendere atto, no? Quindi se la Madonna non sarebbe diventata madre di Dio se non fosse stata perfetta nell'adesione alla Divina Volontà, è anche vero che la prima cosa che Gesù vuole dei Suoi discepoli, chi compie la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre, quindi fratello di Gesù e madre di Gesù, quindi quello che vorrebbe presente, è l'attenzione a fare la Divina Volontà. Recentemente ho fatto una media di un giorno feriare, mi è rimasta un pochino impressa anche a me, che si chiama La Messa non è finita, proprio parlando di queste cose, no? Dicendo che a me non piace per niente la conclusione italiana del congelo della Messa dicendo che la Messa è finita, andate in pace, perché in latino non si dice che la Messa è finita, si dice che la Messa è, cioè in un certo senso non è sbagliata, perché non è mai sbagliato quello che viene tradotto anche dalla Chiesa, però deve essere spiegato, cioè è finito il rito e comincia la vita, perché la Messa si celebra nel rito, ma si vive nella vita, cioè la Messa tende alla vita, cioè la Chiesa dice che la liturgia è il culmine, ma è anche la fonte della vita cristiana, capite? Cioè il luogo dove si esprime il culto, l'adorazione, la riverenza, si vive la massima unione possibile quando facciamo la Santa Comunione con Dio, quindi la Messa è anche fine, capito? Perché fare la comunione, io posso fare la comunione per se stessa, perché voglio stare con Gesù, è certo che si può, cioè Gesù è l'oggetto diretto del nostro amore, però questo tende a cosa? Magari in stessi momenti che ho fatto la giornata a celebrare la Messa io sono sempre in Stare Sub, siamo sempre con Lui, ma così staremo in Paradiso, cioè qui dopo la Messa dobbiamo vivere e dobbiamo vivere la Messa, la Messa vuol dire vivere Gesù, vuol dire vivere, capite? Perché la Chiesa prima di fare la comunione mi fa fare il Signore della Pace, per esempio, no? Perché se io non sto in pace con tutti, non posso fare la comunione, d'accordo? Perché non posso io avere uno spirito a Gesù, Gesù sta in pace con tutti, Gesù sta in pace con tutti, Gesù sta in pace, siamo noi che non stiamo in pace con Lui, ma lui sta in pace con Lui, avversare tutto quanto il suo sangue, d'accordo? Lui sta sempre in pace con Lui, siamo noi che non stiamo in pace con Lui, quindi io posso fare la comunione se qualcuno ce l'ha con me e nonostante che io gli abbia proposto di riconciliarsi, questo non me lo più vede mai coltito al muro, ma io comunque sono in comunione, non è che io ho deciso di estrometterlo dalla mia vita e che non ci parlo più, è possibile? questo qui, se tu hai fatto questa scelta, rispettabilissima scelta in quanto essere umano, Dio stesso prende atto per le nostre libere scelte, ma tu non puoi fare la comunione che sta in queste condizioni, non puoi, perché? Perché la tua vita è difforme dalla vita di Gesù, capito? Quindi, diciamo, ma io mi sento di fare la comunione, mi sento di vivere questa devozione, no, se no sei un devoto ateo, d'accordo? Quella comunione non ti fa nessun bene? Allora, questa dimensione, come dire, esistenziale, questa sempre rimando alla nostra vita è fondamentale oggi, dobbiamo, come dire, lasciarci, tra virgolette, anche mettere in crisi da questo, no? Cioè, sì, la maternità divina è certamente un privilegio unico, d'accordo? Però, e ripeto, le grazie straordinarie dal Dio non si possono meritare, no? Però, ricordo, forse molti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, hanno seguito fino a un mese fa, spazio giovane, abbiamo parlo di tante cose, no? Cioè, una grazia straordinaria Dio non te la dà se tu non stai nelle disposizioni per poterla ricevere. Quindi non possiamo dire che la Madonna si è meritata di diventare la madre di Dio, però possiamo dire che, ripeto, se Dio avesse voluto farsi un uomo come ha voluto, scegliendo una creatura, non c'era nessuna creatura al mondo più adatta della Madonna a fare. È per questo che è stata scelta. Capito? Perché non è che Dio fa le sue scelte e cose, non è che spara nel mucchio, questo lo diceva Calvino, questo qui, sapete? Giovanni Calvino diceva che, con tutte le sue sciocchezze sulla predestinazione, diceva che Dio spara nel mucchio, dice, quello gli avacidoni e lo predestino alla gloria, e a quell'altro non gli rifaccio se ne andrà all'inferno. Ma che stiamo matti? Ma che stiamo a scherzando? Ma io divento attimo se fosse una cosa del genere. Che stiamo scherzando? Cioè, Dio dà a tutti la possibilità di... Capito? Quindi, certamente la maternità divina, la Madonna si sprofonda nella sua omiltà, sicuramente, nel suo nulla, perché lei stessa è rimasta stupita il giorno dell'incarnazione. È rimasta stupita, però state tranquilli che la Madonna lo sapeva di non essere una grande peccatrice, d'accordo? Perché l'umiltà va d'accordo con la verità, non gli sarebbe neanche passato per l'anticamera del cervello. Lei ci pregava giorno e notte che venisse il Messia, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello che fosse... Ma quando lei l'ha ricevuto, siccome la Madonna non è stolta, quindi priva di intelligenza, cioè, ha capito che lei sapeva di essere perfettamente unita alla Divina Volontà e che lo era stato talmente tanto, da essere scelta e te la tieni la scelta, capite? Cioè, quindi Dio non fa le scelte così, cioè, siamo noi che non comprendiamo i disegni e le scelte divine, perché la nostra mente è piccolina, capite? Così come quando capita anche una piccolissima sciocchezza, nonché un piccolissimo incidente, ma un piccolo fastidio nella nostra esistenza che Dio permette, noi non capiamo niente, ma sta tranquillo che quel piccolo incidente c'ha un perché, d'accordo? E noi dobbiamo certamente imparare questo dialogo esistenziale nella nostra vita con Dio, quantomeno a dire Gesù, è successa questa cosa, non ci capisco niente, non è che mi daresti un piccolo aiutino, poi vabbè, tanto ormai è successo, io l'accetto, è proprio volontà, l'accetto lo stesso. Quindi i perché ci stanno sempre, noi a volte non dobbiamo indagarli, non dobbiamo andare a provocare il nostro Signore, non dobbiamo pretendere che ce li dica, d'accordo? O cose di questo genere, ma ci sono sempre. Quindi la Madonna è diventata la madre di Dio, proprio per quello che insegnano indirettamente i propri, i cosiddetti brani antimariologici e antimariani, perché su quello che Gesù chiede qui è stata la numero, non solo la numero uno, la numero uno dando tanti di quei punti al numero due, che tra gli esseri umani e il suo sposo, insomma, capite? La Madonna ha dato i punti agli angeli e agli arcangeli su questo, d'accordo? perché la volontà di Dio si fa in cielo, non il Padre nostro, diciamo, sia fatta in terra come in cielo, ma quelli che fanno la volontà di Dio, i potenti esecutori dei suoi comandi, dice la Sacra Scrittura sugli angeli, sono gli angeli, ma la Madonna l'ha superati, quindi è abbastanza esperta in questo, no? Quindi questo basta, diciamo, per la parte un pochino scritturistica di questo splendido dogma, no? E veniamo adesso ad alcune considerazioni che ci spostano all'età patristica, appunto perché dobbiamo vedere le premesse storiche da cui sono solte queste questioni, proprio sul titolo Teotopos e proprio sulla maternità biologica di Maria, che è comunque importante, d'accordo? E non soltanto perché ci fa comprendere come la Madonna fosse perfettamente disposta a ricevere il dono dell'incarnazione e ad essere scelta per questo dall'Altissimo, per l'esemplarità assoluta della sua vita. Ora, il titolo Madre di Dio, come l'abbiamo descritto, quindi di Teotopos, penso che sappiamo tutti quanti che la Chiesa per i primi quattro secoli ha parlato in greco, cioè per i primissimi anni ha parlato in ebraico, poi ha parlato in greco, cioè nel Consiglio di Nicea e di Costantinopoli, sempre la vita del Densinger, il testo originale non trovate scritto il credo in latino, lo trovate scritto in greco, i primi concili si facevano in greco, d'accordo? Poi, dal quarto quinto secolo in poi, la lingua ufficiale della Chiesa è diventata in latino, ma all'inizio era in greco. Quindi si parla del titolo Teotokos, d'accordo? Che fu anche il termine tecnico utilizzato dal concilio di Efeso. Questo era tranquillamente utilizzato in epoca padristica, senza nessun problema. Ripeto, la fonte scritturistica primaria era il saluto di Santa Elisabetta la Madonna, che debone la madre del mio Signore venga a me. Signore è il nome di Dio, dire madre del Signore è uguale a dire madre di Dio, quindi la Madonna è madre di Dio e del Teotokos. Ora, questo termine, come abbiamo già accennato, accentua proprio il dato biologico, perché tito in greco significa partorire, generare, d'accordo? Quindi non è una maternità spirituale, è una maternità reale, biologica. Ok. Certo, in Occidente, già Sant'Agostino, come abbiamo visto, e ovviamente sulle sue orme, anzi, insieme con lui Sant'Ambrogio, forse anche un po' prima di lui, hanno cominciato ad accentuare, come dire, in chiave propedeutica, se mi si passa questo termine, la dimensione psicorelazionale della maternità divina, d'accordo? Quindi, e i requisiti che hanno, come abbiamo appena visto, portato la Madonna a disporsi in maniera perfetta a ricevere questo dono. Ora, Nestorio, patriarca di Costantinopoli, tra il 425 e il 430, cominciò a mettere in discussione il titolo di Teotokos, affermando che Dio non può avere una madre. Meglio dunque utilizzare per Maria, diceva, il termine Madre di Cristo. Attenzione qui. San Cirillo di Alessandria, facciamo prima un pochino di considerazioni storiche, poi andiamo a vedere il punto della questione che deve essere compreso, poi se non facciamo in tempo in questa prima puntata a iniziare il concilio di Efeso non fa niente, ma è importante porre bene lo stato di questione. San Cirillo di Alessandria si oppose severamente a Nestorio e questa opposizione tra due vescovi della Chiesa, di fatto, perché San Cirillo era il vescovo di Alessandria, che era un'altra sede molto, chiamiamola pesante, insomma, Costantinopoli era la seconda sede dopo Roma, quindi il vescovo di Costantinopoli, insomma, non era Pinco Pallino, insomma, era un pesante, un'autorità pesante, insomma. Ecco. E il concilio di Efeso, come spesso accade nella storia della Chiesa, non fece altro che ratificare proprio le lettere che San Cirillo di Alessandria scrisse in risposta alle eserime storie. Questo non ci deve stupire, d'accordo? Il concilio di Nicea fu fatto fondamentalmente da Sant'Adanasio, che combatte gli ariani e molte delle formulazioni del concilio di Nicea furono la sottoscrizione di alcune tesi di Sant'Adanasio. Il concilio di Efeso, San Cirillo di Alessandria. Il concilio di Trento ha fatto copio in colla con la somma teologia, d'accordo? Quindi non ci devono stupire queste cose, perché così capiamo anche la modalità anche di formazione del Magistrato della Chiesa. È anche il compito importante che la sana e santa teologia, questo ha nella vita della Chiesa, quando è sana e santa teologia. Non diventa purtroppo espressione di idee personali o un po' troppo critiche del singolo teologo. Allora, qual era lo status? Il problema era la chiamiamo Madre di Cristo o la chiamiamo Madre di Dio? Attenzione. Se io chiamo la Madonna semplicemente Madre di Cristo, Gesù è il Cristo. Domanda, no? Il Messia, e questo vale anche guardando semplicemente la vicenda storica di Gesù, no? Il Messia, in ambiente ebraico, era scontato che il Messia fosse Dio fatto uomo? Assolutamente no, d'accordo? Perché Gesù di fatto, il pretesto che è stato preso per metterlo qua in croce, era la presunta bestemmia che avrebbe detto che Dio sarà fatto uomo. Cioè per un ebreo, a meno che non si facesse illuminare da alcuni passi oscuri, no? Gesù per esempio nel Vangelo c'è un episodio dove dice, sentite un attimo, avete letto bene il Salmo 110 dove si legge, questo è un passo un pochino ostico, no? Gesù dice, Davide parlando del Messia dice queste parole, dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io con il tuo nemico, che bello, che indietro i miei. Nella letteratura rabbinica, ed ebrea, ed ebraica, il Salmo 110 è quello che la Chiesa ci mette sulle labbra la domenica sera, ai secondi vespri, è un Salmo messianico, cioè parla del Messia, allora dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, quello che deve sedere alla sua destra, finché io con il suo nemico, che bello, è il Messia vittorioso, no? E moralità dice, dice il Signore, cioè Yahweh, al mio Yahweh, quindi allora Gesù dice, state attenti, interpreti, dice, il Messia è figlio di Davide, giusto? Dice agli interpreti, giusto, ma come mai che Davide stesso, la scrittura lui in Salmo 110, lo chiama Signore? Era una spia, per far capire, stai attento, ma chi è questo Messia? È un uomo? È un grande politico o è qualcosa di più? Solo che, questo è un altro argomento, ma le rivelazioni prodromiche, mi si perdoni il termine, della Trinità nell'Antico Testamento erano mirate, d'accordo? Così come nessuno degli ebrei non sapevano interpretare i canti del servo del Signore, tante volte ho raccontato, quando andai a studiare l'ebraico a Gerusalemme, c'era un professore madrelingua, ebreo, c'eravamo io e altri due o tre amici, alcuni dei quali erano già sacerdoti, che quando parlò dei brani del servo di Yahweh, disse chiaramente che qui ci sono i brani cattolici, per loro il servo di Yahweh è Gesù Cristo, noi ebrei ancora non sappiamo a chi si riferiscono questi brani, l'ho detto lui, l'ha detto, quindi d'accordo? Ecco, per dire, no, perché non è così chiaro, allora se io chiamo la Madonna, la madre di Cristo, ipso facto faccio riferimento alla sua umanità, sarebbe come dire semplicemente la madre dell'uomo Cristo Gesù, d'accordo? Ecco, e allora attenzione, attenzione, chi era Gesù Cristo? Punto interrogativo. E che cosa è stata l'incarnazione? Adesso io vi prospetto alcune cose, no? Perché noi dobbiamo anche capire che cosa ci passa nella testa. Allora, che cosa ha concepito la Madonna? Allora, cosa è l'incarnazione? Allora, noi sappiamo come nasco io, no? Spostiamoci sul concepimento di Gesù. Che cosa ha concepito Maria? Ha concepito un uomo, cioè, d'accordo? Premesso che già sappiamo dalla benedicità perpetua che non c'è concorso umano, no? Quindi la Madonna è stata, tra virgolette, mi si perdoni, però così diceva anche i vari, fecondata dallo Spirito Santo. Quindi quello che ordinariamente fa il seme maschile, nella Madonna l'ha fatto lo Spirito Santo. D'accordo? Ma che cosa è stato creato nel grembo della Madonna? Un uomo come me, e quindi poi la Madonna ha partorito un uomo perfetto, una natura umana perfetta, che in un seg... cioè, che capite? Un uomo perfetto è la seconda persona della Santissima Trinità, tutta la trinità, ha guardato questa cosa. Dopodiché, dopo che questa cosa era già stata fatta, il Verbo ha detto, bene, adesso, questa umanità io la faccio mia, e, come dire, la leggo a me, la adotto, mi ci unisco, mi ci leggo. D'accordo? Se uno pensa che la Madonna sia madre di Gesù, quindi madre di un semplice uomo, e quindi che ciò che è stato concepito in Maria è semplicemente un uomo, necessariamente bisogna intendere l'incarnazione come un processo di successione, successiva adozione, chiamiamola così, unione, fusione, che è da come vi pare, di questo uomo alla persona divina del figlio. Attenzione però, attenzione, se nel grembo di una donna viene concepita semplicemente un uomo, quell'uomo è una persona umana, cioè è un membro individuo della razza umana, che ha una sua consistenza propria, d'accordo? E distinta. Quindi ciò che Dio può fare, questo, guardate, questo, c'è dirmi potente, ma non potrebbe fare altro, può semplicemente unirsi moralmente a quella persona. Quindi siamo due, ma è come se fossimo uno, ma non c'è un'unione ontologica profonda e indissolubile, d'accordo? Perché? Perché come il verbo sia unito a questo presunto uomo, da un momento all'altro potrebbe lasciarlo, senza toccare minimamente la consistenza di quell'uomo. Quell'uomo, faccio un esempio un pochino analogico, no? Cioè io sto in grazia, d'accordo? Sto in grazia. Faccio un peccato mortale, la grazia santificante si allontana, ma non è che io muoio come uomo, d'accordo? Perché? Perché anche l'unione che la grazia santificante ha con me non è un'unione ontologica, ma è un'unione morale, quindi che accede al mio essere personale e si può perdere senza che la mia persona sia toccata. Allora, se nel grembo della Madonna è stato concepito per l'opera dello Spirito Santo un uomo individuo così come sono io, ci fermiamo qui oggi la prossima volta, cosa significa? Significa che il fenomeno dell'incarnazione così inteso sarebbe un fenomeno reversibile, non sarebbe un fenomeno, primo che non tocca l'essenza profonda dell'uomo Cristo Gesù. Certamente lo eleva e lo nobilita, ma non è che crea un mutamento ontologico sostanziale. Secondo potrebbe essere un fenomeno reversibile, in qualunque momento potrebbe cessare di esistere. Quindi io non potrei essere sicuro, per esempio, che adesso in cielo, d'accordo, la natura umana o meglio l'uomo Cristo Gesù, chiamiamolo così, stando diciamo nel filone eretico, sia unito alla seconda persona della Santissima Trinità. Non potrei, né potrei dire con certezza che fino, cioè per tutta l'eternità, dal momento dell'incarnazione, nella seconda persona della Santissima Trinità c'è un doppio modo di essere, divino e umano, che resterà per sempre, come vedremo. E che pur non cambiando niente questo alla vita interna della Santissima Trinità, né alla vita del Verbo di Dio, tuttavia ha di nuovo che aggiunge un secondo modo di essere alla seconda persona della Santissima Trinità che prima non aveva. E vedremo che questo è esattamente quello che la Chiesa ha voluto opporre a questa ricostruzione non corretta, anche se apparentemente convincente, che ci viene data dell'incarnazione e che è sottesa al togliere alla Madonna il titolo di Madre di Dio e darle semplicemente il titolo di Madre di Cristo. Ecco, lo vedremo la prossima volta, perché abbiamo già sufficiente carne affrittata. In questi giorni chi segue queste cose qui, cominci a pensare bene, ma secondo te l'incarnazione com'era? Che è successo? Che, per quanto possiamo, non andiamo troppo in là perché sennò poi, però com'era? Che è successo? Ecco, la prossima volta vedremo che proprio attraverso la definizione di questo dogma, la Chiesa comincia a dirci che è successo. Poi subito dopo il Concilio di Efeso, c'è stato il Concilio di Calcedonia dove la Chiesa avrebbe completato il Cielo, quindi avrebbe proprio preso, portato a compimento quello che aveva detto il Concilio di Efeso, spiegando dettagliatamente, entrando dettagliatamente in alcuni particolari dell'incarnazione, stavolta contro un altro eretico che pur avendo poi rettamente compreso l'incarnazione, ha tratto delle conseguenze non del tutto corrette. Bene, appuntamento per chi lo desidera la prossima settimana, con la mia benedizione, Ave Maria.